Ben trovati a Toscana Lavoro Anteprima, si chiama Terra Aperta, è un network di accoglienza, è nato a Pistoia, accoglienza contro le chiusure del decreto sicurezza, il primo e il secondo di Salvini. Dentro tantissime organizzazioni c'è anche la CGL, Terra Aperta è stata presentata nella sede dell'Arcivescovato a Pistoia. Terra Aperta è una sfida, è una rete di associazioni, di sindacati, di movimenti, di cooperative che vuole porsi un problema, che è quello di dare una risposta ai bisogni e alle esigenze che i migranti in uscita dai casse Sprar avranno nei prossimi mesi. Il comune di Siena, la sua maggioranza, vuole privatizzare i nidi dove sono centinaia di bambini, a Siena ce ne sono circa 250, funzionano, funzionano molto bene, in verità funzionano bene non solo a Siena ma anche in tutta la Toscana, lo rileva una ricerca della regione, ad esempio. La funzione pubblica CGL protesta, protesta anche con durezza e la giunta comunale decide di fare una marcia indietro a metà, cioè non privatizza tutto ma vuole privatizzare i cuochi e i custodi. Non va bene per la CGL neanche questa marcia parzialmente indietro, se ne è discusso in un convegno all'Università di Siena. Abbiamo investito anche nella formazione, questo ci ha lasciato sgomenti anche perché risulta amara come se ci fosse poi un personale di serie A, un personale di serie B dove te che sei il più basso nella catena ti posso mandare via. Dal 14 di maggio, un mese poco più, la FICAM CGL Toscana ha un nuovo segretario, si chiama Stefano Nicoli, era già in segreteria regionale da tempo, sostituisce Cinzia Bernardini che nel frattempo è andata alla segreteria nazionale della FICAM CGL, lo abbiamo intervistato e nella sua prima intervista a Toscana Lavoro da segretario generale lancia la campagna backstage della FICAM CGL, si parla di turismo, ci sono molti addetti al turismo, camerieri, bagnini e anche addetti ai piani, negli alberghi che sono senza diritti. Se non si trovano i bagnini la colpa non è certo del reddito di cittadinanza, la colpa è di chi vorrebbe pagarli 2 Euro, stavo per dire 2 lire, ma poco più in verità, e chi li vorrebbe appunto far lavorare a cottimo. La FICAM, anche qui in coerenza con quanto ho fatto negli anni precedenti, lancia la sua campagna sul lavoro stagionale nel turismo e quest'anno si intitolerà backstage, quello che non vedi vale, proprio per provare a far capire al turista che si presenta in un villaggio, in uno stabilimento malneare, in un bar, in un ristorante, in un hotel, che dietro quello che vede, quindi all'apparenza ci sono dei lavoratori che rendono esigibile quel servizio. Sono molti i pregiudizi intorno all'immigrazione e agli immigrati, ci sentiamo invasi e non è oggettivamente vero, si sente invaso anche chi ne ha di meno, per esempio in alcuni comuni della Toscana sono davvero così pochi ed è lì che magari si sentono i cittadini più invasi e votano Lega. Ebbene fare formazione, la sta facendo lo SPI, CGL della Toscana, per sconfiggere questi pregiudizi che non hanno davvero alcun senso. Primo dato sorprendente, ha sorpreso anche me, che in realtà gli immigrati sbarcati in questi anni sono pochissimi. Il secondo dato è che l'Italia dal 2012 non è più un paese di immigrazione, sembra strano, però le persone arrivano sempre meno, quelle che noi vediamo nei barconi, in realtà sono una piccola frazione degli arrivi, l'Italia ha in stagnazione economica e migratoria. Ed è tutto per Toscana Lavoro Anteprima, vi abbiamo come sempre presentato alcune pillole, non ne vi accontentate, domenica alle 14 su Toscana TV, canale 18 del Digitale Terrestre, i servizi di Alessandra Pagliai, Edi Ferrari e Tommato Calgani. Buona visione. Alessandra Pagliai